Buonasera a tutti, benvenuti al grande appuntamento con Poker Sportivo Show. Si parla di Texas Hold'em, si parla però anche di politica in qualche modo applicata al mondo del poker e ovviamente di federazioni. Però subito al mio fianco la spende da Stefani Ordonez, benvenuta Stefani. Buonasera. Tra le tue mani c'è un mensile che è il nostro riferimento, è Poker Sportivo, ecco il numero in edicola. Voglio ricordare che Poker Sportivo è una rivista che affronta non solo le tematiche legate al gioco, inteso come tornei, come eventi, come strategie, ma anche proprio a livello di politica, federazioni. E quindi questa sera abbiamo grandi ospiti per parlare di questo tema. Sarete anche voi i protagonisti della casa con le vostre domande. Ma prima conosciamo i grandi ospiti. Ogni ospite è presieduto da una sigletta. Conosciamo il primo. Presidente della FIGP, Isidoro Alampi. Ed eccolo con noi Isidoro Alampi, benvenuto. Ciao Jack. Ciao. Si può accomodare Isidoro Alampi, presidente della FIGP, per raccontarci i progetti e per parlare di futuro. Ma arriva un altro dirigente importante. Conosciamo il vicepresidente di Italian Rounders, Giosuè Salomone. Benvenuto anche Giosuè Salomone. Ciao Jack. Ciao. Si accomoda al fianco di Isidoro Alampi, col quale si saluta. Quindi vedete, già c'è qualcosa di positivo. E adesso andiamo a conoscere il terzo importante dirigente. Presidente onorario FIT, Claudio Pagano. Ed è con noi anche Claudio Pagano, benvenuto. Ciao. Grazie a Claudio per essere con noi. Ciao. Anche in questo caso la stretta di mano. E noi speriamo che sia benaugurante per questa trasmissione. Io vado però a salutare velocissimamente gli amici al tavolo. Questa sera il gioco non sarà protagonista, però hanno scelto di essere ugualmente con noi. Vado a salutarli in postazione. Sono gli amici del Bologna Poker Club. A loro dico grazie per averci tenuto compagnia anche in questo pomeriggio. Evidentemente interessati dalle varie tematiche, perché giocheranno così in maniera amichevole e informale. La loro mano non sarà analizzata come tradizione dai professionisti. Però credo che abbiano piacere di sapere un po' in anteprima le novità del mondo del poker a livello federale. Alfredo è in veste di dealer. Ne approfitto per salutare Francesco, Nicolò, Vincenzo e Antonio. Questi sono i nostri quattro amici che intanto giocano e poi avranno sempre modo di punzecchiarsi comunque sulla partita. Perché poi in realtà è sempre una sfida nella sfida giocata in televisione. Grazie davvero per essere con noi. Vado immediatamente da Alice Nuvola. Benvenuta Alice. Grazie Giacomo. Questa sera notizie, ma questa sera tante domande dagli amici di Italia Poker Forum. Allora, cominciamo intanto subito con la notizia, perché credo che ci sia stato un evento che per noi è un riferimento. Sì, infatti torniamo dalla quarta tappa del campionato pro di Sanremo. Dove ha vinto Alfredo Carroes e secondo Matteo Fratello, il Toscano, che già si era passato molto bene la tappa precedente. Quindi complimenti a lui che vince questa tappa. Troverete un'intervista proprio al vincitore sul prossimo numero di Poker Sportivo. Molto bene. Allora, spieghiamo quale sarà il tuo ruolo quest'oggi. Allora, sono tanti gli utenti che ci hanno scritto, appunto ponendo delle domande ai presidenti delle federazioni. Io ho fatto un po' un sunto di quello che hanno detto e ci sono tante domande interessanti. Bene, le utilizzeremo. Sarai coinvolta massimamente quest'oggi. Intanto un servizio per presentare in qualche modo la situazione al momento per quanto concerne il mondo del Poker a livello federale. Vediamo. Online si può giocare, dal vivo quasi. Manca solo una federazione che rappresenti il mondo del Texas Hold'em o del Poker sportivo, se preferite. Anzi, a dire il vero, ce ne sono pure troppe. Ora il problema è metterle d'accordo. Per il popolo di internet una linea guida è stata trovata. Per chi ama il torneino al circolo c'è ancora incertezza. Però qualche indicazione positiva arriva. Lo Stato riflette. Adesso tocca al mondo del poker dare un'immagine di unione. Vi risparmi i nomi della sfilza di federazione nate tra il 2006 e il 2008. E se ancora non ne sono nate è solo perché ora i giocatori non ci credono più. Peccato perché un vero e proprio campionato italiano con un palasporto e gremito di ragazzi che hanno pagato 20 euro a testa è un'immagine splendida. Sia ben chiaro, al di là di chi lo organizza. Tornerà forse, ma oggi nessuno si sente più veramente parte di una federazione, piuttosto un solitario giocatore che partecipa a un torneo che mette in paglio un monte premi. La griffa delle chips non conta, solo averne tante. Ora coloro che hanno dato là a strutture che si sono autodesignate a rappresentare il mondo del Texas Hold'em hanno un compito chiaro, lavorare per creare una federazione unica. Che si piacciono o non si piacciono, perché in questa partita di poker non c'è un primo, un secondo e un terzo, ma l'ultima occasione per dividersi un premio. L'alternativa per tutti è alzarsi dal tavolo con nulla in mano. Ah, mi raccomando, il casino sta chiudendo.